Dopo due anni la compagnia teatrale Le Maschere Nude torna a calcare un palcoscenico proponendo uno spettacolo ispirato al Decamerone del Boccaccio. L'intesa, le trovate originali e quella complicità che da sempre caratterizza il trio composto da Mario Farina, Lina Fantini e Pino Minutillo hanno reso lo spettacolo davvero gradevole come sottolineato dai tanti applausi del pubblico presente all'auditorium. La voglia di tornare a fare qualcosa in scena è sempre grande. Questo lavoro è stato commissionato dal Comune di Sernia per festeggiare i 700 anni come fa tutta Italia la nascita di Giovanni Boccaccio. Noi abbiamo accettato, dico noi perché Lina e Pino sono le colonne e sono sempre state le colonne di questa compagnia hanno anche loro avuto voglia di tornare in scena e abbiamo provato a mettere su questo lavoro che per quanto qualcuno ha detto che è di nicchia e forse lo è, noi abbiamo fatto in maniera di renderlo fruibile come al solito perché intendiamo l'arte quando arriva a tutti, quando il pubblico è un pubblico etereogenio e può capire di tutto. Il Boccaccio forse non lo era così ma lo abbiamo reso fruibile. Certo non con scene piccanti ma con una traduzione in italiano della novella e poi in un secondo momento viene letta in vulgare e poi abbiamo inserito delle musiche simpatiche di Branduardi ed altre e poi abbiamo inserito delle immagini cinematografiche di Non ci resta che piangere di Troisi e Benigni. Ebbene noi abbiamo trovato delle similitudini di comportamento dei due attori con quelli che erano i comportamenti dei personaggi del Boccaccio.